Ciao ragazze, oggi volevo farvi vedere dei prodotti che ho ricevuto gratuitamente dalla Bioregit che vende attraverso il sito Aromaterapia, vi metto il link nell'info box come al solito e lo troverete ugualmente nel blog. E devo dire che a me sono piaciuti molto perché si sono davvero interessati ai miei problemi di pelle ci siamo sentiti diverse volte per email e anche per telefono per studiare un ciclo di cura per la mia pelle. Alla fine devo dire che probabilmente il problema individuato è corretto, io ho appena ricevuto i prodotti per cui non li ho ancora cominciati a utilizzare e ora vi dico più o meno quello che mi ricordo chiederò conferma comunque alla Bioregit per essere sicura di utilizzarli nel modo giusto perché ovviamente non me lo sono scritto e la mia memoria è come quella di un vecchio di 150 anni. Quindi, incomincio subito con... Allora, mi hanno mandato il latte detergente all'olio di mandorla dolce gli ingredienti li trovate sul blog perché secondo me non ha senso leggere gli ingredienti comunque il sito è fatto veramente molto bene, ma davvero tanto, secondo me nessun sito che io almeno abbia mai visto, non posso dire in generale, però secondo me siti così se ne trovano davvero molto pochi perché sul sito ci sono tutti gli ingredienti, c'è un minimo di spiegazione, c'è una guida sull'utilizzo del prodotto ci sono consigli relativi a chi va bene, chi magari non va bene, chi non va bene il prodotto non riesco a parlare oggi Comunque, veramente il sito è fantastico, tant'è che io quando lo vi sono detto ma cosa vi servono le blogger, le youtubers, il sito è fatto veramente bene, veramente veramente bene e quindi non mi dilungo oltre, vi faccio vedere che cosa ho ricevuto e poi da domani incomincio a testarli spero davvero vivamente che mi aiutino, ma sono abbastanza sicura perché davvero ho trovato delle persone splendide non me lo sarei mai aspettata comunque, dicevo, il latte detergente per stroccarsi per la pulizia del viso poi, sempre per un'azione sfogliante, il jago mount viso corpo con olio essenziale di sedano che è sempre purificante questa confezione è da 100 ml poi, l'acqua attiva addolcente con olio essenziale di tanaceto ora, già questa per esempio, non mi ricordo quando la devo usare comunque, calma, irritazione al rossore dell'epidermine apporta dolcezza e freschezza per tutti i tipi di pelle per pelle sensibile e facilmente arrossabile e questa qui anche è da 100 ml poi, il gel contorno occhi all'olio essenziale di camomilla questi sono 50 ml ed efficace contro rughe e occhiaie la crema attiva per le pelle impuri al neroli che è una sorta di agrume se ho capito bene sì, fiori d'arancio quindi è un agrume specifica per pelli tendenzialmente grasse e poi, questa qui, me lo ricordo è una maschera è una crema in realtà che io utilizzerò come maschera quindi lasciandola in posa un mix tipo un quarto d'ora eccetera per poi toglierla ed è una crema attiva per pelli mature alle chemochelones biologiche che non so che cosa siano trattamento intensivo di pulizia profonda favorisce l'attivazione delle macchie attira ed elimina le impurità della pelle quindi io la utilizzerò, dicevo, come come maschera e poi l'olio essenziale olio di calofilla che è un stimolatore della circolazione è un calmante dice c'è una luce terribile oggi in camera eppure, voglio dire, fuori c'è un cielo fantastico attiva la calofilla è adatta per stimolare la circolazione e contrastare gli indolenzimenti di varia natura questo anche non mi ricordo come lo devo prendere per cui devo per forza ricontattarli perché ci siamo sentiti forse subito dopo ferragosto subito prima non mi ricordo e io non mi sono scritta a tutto quello che ci eravamo detti e quindi sono un po' srompita in questo periodo ma davvero il non fare ferie quando uno lavora io non ci credevo però ti distrugge però l'abbiamo prenotato e io sono troppo contenta poi questo non c'entra niente perché l'ho acquistato io però ve lo faccio vedere perché mi piace tantissimo è un'acqua corpo profumata senza alcol al muschio bianco pagata 1,90 euro ma io la uso come rinfrescante durante il giorno da portarmi in giro per dare un minimo di profumo così ed è questo qua la marca è questa Sens Tess che non conosco però il profumo al muschio bianco mi piace tantissimo c'erano tantissimi profumi diversi tra l'altro però questo il muschio bianco è stato il mio primo amore dalla bottega verde quindi niente tutto qua vi farò un posto un pochino più completo sulla società anche sulla Bioregit nel blog per cui andate a vedere nel blog per delle informazioni aggiuntive qui volevo solo farvi vedere quello che ho ricevuto non dirvi come li userò perché non me lo ricordo e niente un bacino a tutti e buona domenica